Allora, siamo con Suor Anna Nobili, una religiosa che sta venendo da Milano in giro per l'Italia, anche se le sue origini sono pugliesi, in giro per l'Italia per portare una testimonianza importante, per evidenziare quella che è stata la sua conversione, una conversione radicale nella fede. Sì, diciamo che prima io non credevo, quando ero più giovane, anzi ero nel mondo dello spettacolo, vivevo a Milano e la vivevo di notte, nelle discoteche, come cubista. Lei era cubista? Anche, non facevo solo quello, ecco. Ci dica un po', lei come è arrivata a fare la cubista? Da quanti anni? No, beh, io adesso non sono più cubista. A quanti anni? Io ho fatto un paio d'anni, diciamo che dai 18 ai 20 anni, e poi ho incontrato Gesù. Ecco, quindi ha avuto un momento della sua vita particolare, diciamo, dove lei trovava nella musica, nella discoteca, nel materiale trovava i suoi riferimenti. Ma diciamo che avevo capito che la danza e il corpo poteva essere come un'arma di seduzione per gridare al mondo che io c'ero, perché avevo bisogno di tanto amore, di attenzione, avevo bisogno di essere, come dire, guarita anche, da una ferita affettiva che io avevo sin da quando ero piccola. E quindi pensavo che la danza poteva essere la mia felicità, perché me la prometteva al mondo dello spettacolo, la notte, mi promettevano una felicità che però non mi manteneva. Ecco, quindi lei viveva il mondo anche della notte, lei abitava a Milano e viveva anche il mondo della notte. E poi che cosa è successo? E poi è stata mia mamma che ha incontrato Gesù e con la parola in mano cercava di invitarmi alla Santa Messa, di andare in chiesa, ma non ne voleva sapere niente. Poi lei decise in silenzio di pregare per me, fino a quando poi alla vigia di un Natale, ho 22 anni, mi sono recata in chiesa, non so perché, io facevo così. Un po' come la storia di Sant'Agostino. Sì, sì, mi riconosco in diverse storie. E da qui, niente, ho iniziato ad entrare in chiesa perché in chiesa c'era qualcosa che comunque fuori non trovavo. Ed ero tra due gioie però, la gioia che mi dava la notte, le passioni, tutto questo mondo dello spettacolo, ma che però rimaneva sempre superficiale. Invece Gesù mi dava l'amore e quella gioia che stava dentro, fisso nel mio cuore. E quindi una volta incontrato Gesù, grazie alle preghiere da parte di sua mamma, magari una preghiera intensa, probabilmente anche prolungata nel tempo, un po' come faceva Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino, una volta entrata in chiesa e ha avuto questo approccio col Signore, lei che cosa ha fatto? Ma io non ne è stato subito. Inizialmente ho continuato due vite, però poi piano piano non riuscivo più. Per un periodo, possiamo definirle, mi perdoni, fra virgolette, due vite parallele. Sì, avevo due vite parallele, una di giorno e una di notte. Perché comunque Milano la vivevo di notte, anche di giorno, però soprattutto di notte. Fino a quando a un certo punto decisi che se dovevo dare una svolta alla mia vita era perché veramente questo Dio esisteva. Avevo avuto un dubbio se veramente Lui c'era, perché il mio cuore non cambiava. Allora fece un ritiro ad Assisi e gli ho scoperto Dio, Dio nella creazione e Dio nel mio cuore. Ecco, quindi grazie a un ritiro spirituale poi è avvenuto questo cambiamento radicale, perché radicale possiamo dire dal materialismo all'aspetto puramente spirituale. Sì, anche se il cambio non avviene solo perché si lascia il mondo e allora si va in chiesa oppure chissà dove. Allora, il lasciare quella parte di mondo era l'inizio di un percorso, perché il mondo poi l'avevo dentro. E quindi il Signore ha dovuto guarire le mie ferite, purificarmi anche dal mio peccato, anche da un modo malizioso e possessivo, di vivere l'amore con gli altri, non l'amicizia. E io non sapevo vivere una vita normale, una vita semplice. E quindi il pericolo era di rifugiarmi nello spirituale. Quando invece ho capito che Gesù si incarna, che Gesù è uno che fa le cose quotidiane, non è uno... Ma soprattutto le cose le fa per bene. Le fa per bene. E con lì ho cominciato un percorso, ho continuato un percorso, soprattutto di guarigione. Poi a un certo punto non riuscivo... Quindi lei sentiva l'esigenza di, fra virgolette, di guarire? Assolutamente sì. Io ho scoperto nel cammino proprio dei ritiri, nel silenzio, che io avevo un cuore pieno di ferite, che se avevo fatto delle scelte che potevano avermi fatto soffrire, era proprio per questo motivo. E per cui l'unico a potermi guarire era Gesù. Avevo capito che nello psicologo, nello psicofarmaco, con tutto l'aiuto che ci può dare, che mi poteva dare, era Gesù il mio medico. E quindi hai iniziato questa terapia? Sì, ho iniziato questa terapia in chiesa con alcune persone che, un sacerdote, una suora, anche una laica, mi hanno aiutato in questo percorso, mi hanno accompagnato per mano, lasciando che Gesù operasse nel mio cuore. E l'operazione l'ha fatta veramente grande. E ripeto, non è un momento. La conversione è ogni giorno. E ogni giorno alzarsi e dire di sì a Gesù. Sì, anche in una situazione dolorosa, non solo interiore, ma anche esterna. Nelle difficoltà quotidiane della vita. Anche nelle scelte che ho fatto, perché, per fedeltà anche, no? Per dire, Gesù, questo vuoto, questa solitudine appartiene a te. Sei tu il Signore di questa mia ferita. Quindi niente, nessuno può colmare questo vuoto. Dunque, a un certo punto della sua vita, ha dato un taglio a quello che è stato, diciamo, il passato. Allora, il passato l'avevo già fatto, nel senso che quel modo di vivere, perché ho detto, se voglio scoprire Gesù, devo lasciare un certo tipo di mondo. In realtà, Gesù mi ha riportato a me stessa. Mi ha detto, no, io voglio riportarti alla tua umanità, alla tua danza, ma un altro tipo di danza, alla tua persona, a scoprire chi sei. E mi ha ridato una cosa da poco, la dignità di donna, perché io avevo perso. Andavo in giro a mendicare. Quando poi ho scoperto la mia vocazione, non è stato semplice, perché il cammino di purificazione, di guarigione, è continuato per anni anche da consacrata. Perché il Signore dà la vocazione a tutti, anche i più disperati. E poi nella vocazione ci guarisce, ci libera, ci forma. Ecco, quindi lei a un certo punto della sua vita ha avuto questo cambiamento, quindi questa conversione di cui stiamo parlando, per cui ha fatto una scelta importante, ma anche una scelta definitiva, quella di consacrarsi al Signore. Sì, la consacrazione è avvenuta nelle suori operaie della Santa Casa di Nazareth, che ho incontrato 15 anni fa e mi aveva molto sorpreso la familiarità, l'amicizia con cui noi, non loro, noi ci approcciamo alla gente, quindi veramente molta umanità ed era quello che io ho bisogno di umanità. Sorelle che mi hanno accolto nella fiducia e nel lasciare in che i miei talenti prendessero ali nella congregazione e nella Chiesa. Però non ho scelto le suori operaie per questo motivo, io avevo lasciato la danza, perché dissi, no Signore, io non voglio più danzare perché non viene da Te, la danza è peccato. Per cui quando poi sono entrata dalle suori operaie, sono state loro che mi hanno detto, questo è un tuo dono e dobbiamo donarlo alla Chiesa. Ecco, una sorta di evangelizzazione anche attraverso la danza. E quindi che cosa ha fatto? E quindi è successo che quando ho preso i voti perpetui nel 2008 a Palestrina, vicino Roma, abbiamo fondato, ma veramente non avevamo nessuna intenzione, perché abbiamo aperto un corso di danza grazie al vescovo Domenico Sigalini, che mi chiese, fai un corso di danza qui in diocesi? Io ho detto, va bene, però non volevo fare solo danza, ma unire la danza moderna col Vangelo. E da lì a poco i giovani sono aumentati, adesso sono 80 giovani con il Vangelo in mano, che adorano Gesù danzando, fanno un percorso spirituale, andiamo in giro per le piazze, per i teatri, nelle chiese, nelle carceri, a testimoniare che Dio ci ama e che Dio ama anche te. Ecco, quindi lei ha cercato di fondere quelle che erano le sue doti, ma anche, per certi versi, le sue capacità professionali, in modo tale da poter evangelizzare e portare nel mondo, in giro per il mondo, quello che è il Vangelo di Cristo. Sì. Attraverso la danza, attraverso questo importante strumento, questa forma artistica. Sì, i ragazzi quando si approcciano la danza entrano in un percorso spirituale e umano in cui insieme si cresce nel perdono, nell'accoglienza della diversità, nel non mettere il proprio corpo al centro, ma Cristo che si sta vivendo insieme, l'amicizia con Lui è tra di noi. E da qui sono nate adesso delle filiali, delle sedi distaccate, una a Foggia, l'altra a Putignano, è vicino Morlupo, vicino Roma, e poi stiamo donando stage in tutta Italia. In tutta Italia. Soranna, io la ringrazio, la ringrazio per questa sua testimonianza, bella, importante, e non posso che augurarle un buon cammino in Cristo. Grazie, grazie a voi, vi penso e vi prego. Prego, prego per voi. Grazie.